Beh, è il caos che anticipa cosa succederà nelle prossime settimane, perché poi queste conferenze stampa di fine anno sono rituali, ci sono perfino degli applausi davvero fuori posto, perché giornalisti che applaudono il Presidente del Consiglio o un politico in una conferenza stampa, uno spettacolo che non si dovrebbe vedere. Però sono anche delle sedi dove si dicono qualcosa, io ne ricordo due, una dove Monti fece il suo partito, scelta civica, l'annunciò nella conferenza stampa di fine anno, e sempre nella conferenza stampa di fine anno fu la sede in cui Matteo Renzi disse se perdo il referendum e ci fu addirittura un anno dopo, nel dicembre dell'anno dopo, lascerò la politica. Ecco, quest'ultima cosa a tutta evidenza non è avvenuta e poi forse parleremo di una cosa importante, cioè l'intervista oggi di Renzi su Repubblica. Io credo che Draghi ieri era atteso, fin dalla prima domanda, la curiosità sul suo destino personale, non è ovviamente una curiosità morbosa, è un tema istituzionale delicato, forse il più delicato. Io direi che tutto quello che lui ha detto è una disponibilità a essere candidato per la Presidenza della Repubblica, l'ha detto in tutti i modi possibili, e quindi da ieri i partiti hanno due, condivido quello che ha scritto Ignazzi, tra l'altro la domanda più importante da questo punto di vista l'ha fatta Alessandra Sardoni, mi piace dirlo però qui a Omnibus e alla Sette, quando ha chiesto al Presidente Draghi cosa succede se la maggioranza di unità nazionale non riesce a trovare un candidato comune. Lui ha risposto con una domanda che è sul tavolo dei partiti. È immaginabile che una maggioranza che si rompe sul nome del Presidente della Repubblica poi si ricomponga, ha usato questo avverbio, magicamente, sul governo. Ovviamente una domanda retorica è sembrata anche una forma di minaccia, insomma il nonno ha tirato fuori gli artigli in questa domanda, in questa domanda che pone ai partiti, perché ha detto, beh non pensiate che se poi sul Quirinale ognuno va per sé, poi il giorno dopo stiamo nel governo di unità nazionale. Allora chiudo, i partiti hanno i due presidenti, ci metto dentro anche Mattarella, perché ieri io non credo che Draghi abbia speso quelle parole senza una sintonia col Presidente della Repubblica e l'ha chiamato a Palazzo Chigi. Quindi Mattarella è da mesi che dice io non ci sto. E Draghi ieri ha detto io sono disponibile. Allora questi sono i due dati di partenza che levano gli alibi alle forze politiche. Se i partiti pensano quindi che non c'è Mattarella e vogliono trovare un'alternativa a Draghi, hanno queste settimane per mettere in campo un'alternativa dentro il perimetro dell'unità nazionale. Se questo passaggio non c'è, se i partiti non riescono a trovare un nome che abbia gli stessi voti del governo Draghi, ma con un nome che non è Draghi, allora andiamo appunto incontro al caos di cui la conferenza stampa ieri è solo l'anticipo. Allora vi faccio sentire subito la prima...